Un file manager testuale è molto comodo, soprattutto se usi spesso la riga di comando. Il file manager testuale per eccellenza sotto Linux è il venerabile Midnight Commander, che funziona molto bene, ma il suo problema principale è che visto che ti dà una riga di comando sempre a disposizione, non puoi utilizzare i tasti HGKL per muoverti oppure eseguire operazioni premendo un solo tasto. Un altro file manager testuale popolarissimo è Ranger, che da un lato usa i tasti stile Beam, quindi risolve il problema che ho con Midnight Commander, ma dall'altro ha un'impostazione troppo strana e richiede molta configurazione e qualche programma esterno per funzionare decentemente, a mio avviso. Insoddisfatto da entrambi, mi sono messo a scrivere un mio file manager con Blackjack e... No, dicevo, mi sono messo a scrivere un file manager che combini i migliori aspetti di Midnight Commander e di Ranger, e l'ho chiamato R&R, cioè R&R's Not Ranger. Vediamo dalla pagina del progetto che consiglia Python 3.6 o superiore e Archive Mount. Andiamo a installare entrambi. Ok, ora andiamo a installare R&R come da documentazione. Visto che R&R è stato installato in una sottodirectory della mia home, che in precedenza non esisteva, mi debbo sloggare e rilogare perché funzioni il tutto. Bene, adesso per muoverti su e giù, basta premere freccia giù, freccia giù, oppure puoi anche usare i tasti HJKL di Vim, se sei più abituato, quindi J, K, per andare indietro di una directory, premi H, per andare avanti in una directory, premi L, oppure premi sinistra per andare indietro e destra per entrare in una directory. Per passare da un pannello all'altro, premi Tab e i pannelli sono indipendenti, quindi posso avere directory differenti da un pannello all'altro. Per scambiare i pannelli sinistra e destra, premo CTRL U, mentre invece se voglio che l'altro pannello abbia la stessa directory del pannello corrente, premo ALT I. Di default ci sono due bookmark, il primo è la directory in cui si trovava prima il pannello, e lo richiami premendo due volte il tasto apice. L'altro bookmark è la home directory, e lo richiami premendo il tasto apice e poi H. Dagli screenshot avrei visto che è possibile cambiare i colori, e questi si configurano andando a modificare il file .config.py. Visto che la directory .config è nascosta, per mostrare o nascondere i file nascosti, premi il tasto Backspace. Per spostarmi sulla directory .config potrei andare col cursore fin lì, oppure posso utilizzare una funzione comodissima, cioè filtrare la lista. Premo F per iniziare a filtrare, poi basta scrivere co, ed ecco che sono già subito sulla .config. Stesso discorso per andare. Prima di editare il file volevo tornare un attimo al discorso dei bookmark. Per impostare un bookmark su una directory premi M e poi una lettera a tua scelta, che sarà il nome del bookmark. In questo caso quindi premo MC, il che significa che ho impostato la directory corrente col bookmark C. Ora per editare il file mi basta premere F4 oppure E. Qui vedi tutti i parametri di configurazione possibili. La maggior parte sono estetici. Per disabilitar la barra in basso basta mettere false a show button bar. Per avere lo sfondo del colore di default del terminale basta impostare a default panel BG. Ora abbiamo sì fatto le modifiche, ma perché vado a nodo effetto debbo riavviare ARNAR, quindi ora esco. Premendo Q. Nota come uscendo da ARNAR mi ritrovo ancora nella directory da cui l'ho avviato. C'è nella mia home, anziché trovarmi nell'ultima directory visitata su ARNAR. C'è .config ARNAR in questo caso. Rimendiamo subito andando ad editare il file .bash rc. Tornando alla documentazione vedi che basta fare copia e incolla di questo e andiamo anche a mettere questo stty-xon che ci serve poi per abilitare la combinazione ctrl Q e ctrl S. Visto che abbiamo modificato un file di avvio occorre chiudere il terminale e riaprirlo. Tutto questo può sembrare laborioso, ma in realtà è da fare solo una volta. Benissimo. Adesso avviamo ARNAR e vedi che lo sfondo è nero e non c'è più la barra sotto. In realtà lo sfondo non è nero, ma abbiamo detto lo sfondo di default. E questo ci permette poi di andare a giocare con la trasparenza, se così ci piace. Ma visto che a me piacciono di più i colori classici stile Midnight Commander, torniamo indietro alla configurazione precedente. Se ti ricordi, avevamo impostato come bookmark C la directory di configurazione di ARNAR. Quindi per richiamare un bookmark basta premere apice e il nome del bookmark, in questo caso C. Modifico il file di configurazione come avevamo visto prima. Salvo ed esco. Nota come ora ci troviamo nella directory .config ARNAR, che è proprio l'ultima directory visitata su ARNAR. Ok, riaviamo ARNAR. Prima avevamo parlato della combinazione di tasti ctrl Q. Bene, proviamola. Ed ecco che sull'altro pannello ho un'anteprima del file selezionato. Cambiando file, l'anteprima si aggiorna automaticamente. Questa anteprima utilizza il visualizzatore di file interno, che puoi richiamare premendo il tasto F3 oppure con la lettera V. Il visualizzatore interno è disponibile anche come comando a sestante chiamando ARNAR view. Come vedi, per i file di testo c'è il numero di linea e la sintassi colorata, mentre per i file binari c'è una modalità dump che non vedo dai tempi di X3 Gold. Puoi anche visualizzare file sia di testo che binari in esadecimale premendo F4 oppure H. In questa directory ho scaricato qualche pacchetto a caso dal sito GNU. Come vedi, tutti archivi compressi di vari formati. Se invece che ordinarli per nome volessi ordinarli per estensione, basta premere SE. Se tutti questi comandi ti sembrano troppi e hai paura di non riuscire a memorizzarli tutti, non ti preoccupare. ARNAR ha una man page che spiega tutto. Puoi sempre tenerla a parte in un'altra scheda. Le prime volte ti troverai a consultare la man page molto spesso. Poi, man mano che utilizzi ARNAR, vedrai che ti verrà tutto naturale. Visto che abbiamo installato ArchiveMount, possiamo utilizzare gli archivi compressi come se fossero delle normali directory. Quindi vedi che riesco ad entrare qui, vedere i contenuti, e per estrarre basta copiare, cioè premere F5. Caratteristica unica di ARNAR è che le operazioni di copia sono completamente non interattive. Cioè scegli cosa fare in caso di conflitto prima che inizi tutto il processo di copia. E se ci sono degli errori, questi non bloccano la copia, ma verranno mostrati solo alla fine di tutto. Se stai copiando poca roba, come ora, potresti non vederno l'utilità. Ma pensa se devi copiare svariati giga da un hard disk a un altro. La copia potrebbe richiedere diverse ore. Quindi l'ideale è di iniziare la copia di sera e farla andare tutta la notte. L'ultima cosa che vuoi è che la mattina successiva ti ritrovi il processo di copia fermo al 10% con una richiesta di cosa fare se sovrascrivere o non file già esistente. Stando sempre in quest'ottica, su ARNAR tutti i file copiati vengono tracciati in un database. Così, se va via la corrente nel mezzo di un'operazione, puoi sempre riprenderla da dove si era interrotta. Guarda, ti faccio vedere. Premendo CTRL-C sono uscito brutalmente ad ARNAR come se fosse andata via la corrente. Ora, se riavvio ARNAR, vedi che mi chiede se continuare la copia che era in corso e continuando, vedi che hai preso esattamente da dove è stato interrotto. Puoi selezionare più di un file su cui eseguire delle operazioni. E nel linguaggio di ARNAR i file selezionati si chiamano taggati. Per taggare un file basta premere spazio. Per togliere il tag ad un file usa sempre spazio. Per taggare tutti i file premi il tasto più. Sotto compare quali file vuoi taggare. Asterisco significa tutti. Diciamo che vogliamo taggare tutti i file .bz2. Quindi andiamo a mettere come maschera asterisco .bz2. Ora hai tutti i file bz2 taggati. Per togliere il tag a tutti i file usa meno al posto di più. Quindi se voglio copiare questi file, una volta taggati li copio con F5. O se li voglio eliminare basta premere F8. Un'ultima funzionalità utilissima che voglio mostrarti è la shell e le sostituzioni macro. Diciamo per esempio che voglio estrarre utilizzando il comando unzip questo file. Allora mi porto sull'altro pannello nella directory dove voglio estrarre il tutto. Poi premo punto esclamativo oppure due punti per entrare in modalità comandi di shell. E qui scrivo la mia bella riga di comando. Quindi unzip. Poi voglio il file selezionato sull'altro pannello. Quindi metto per cento F maiuscola. Ed ecco che il file è stato comodamente estratto. Se voglio vedere l'output del terminale basta premere CTRL O. Come hai potuto vedere, sfruttando i due pannelli e le macro, ma io aggiungerei anche i tag, è possibile fare delle righe di comando molto potenti in maniera semplice e concisa. Spero che questo video ti sia stato utile per iniziare ad utilizzare questo file manager. Ciao!